quanto allenarsi per rallentare l'invecchiamento in condizioni di disfunzione tiroidea buongiorno a tutti sono il dottor davide teggi sono il co fondatore di fitness 40 più sono anche il fondatore del gruppo allenamento 40 più per la tiroide l'allenamento per la salute metabolica e oggi voglio parlarti di come attraverso l'esercizio fisico puoi davvero rallentare l'orologio biologico ecco una delle condizioni associate alla condizione di una tiroide che lavora troppo lavora poco quindi produce pochi ormoni tiroidei oppure ne produce in eccesso quindi la condizione di ipotiroidismo o la condizione di ipertiroidismo qualunque essa sia che sia di natura autoimmune oppure che sia su base infiammatoria che sia subclinica o che sia di qualunque tipo c'è sempre una piccola cosa in comune un aumentato invecchiamento cellulare ora quando parliamo di invecchiamento dobbiamo parlare di buon funzionamento dei mitocondri che cosa sono i mitocondri i mitocondri sono delle centrali energetiche cellulare infatti si è visto associato un malfunzionamento una poca efficienza della mitocondrio alla aumentata velocità con la quale vado a invecchiare ok quindi l'invecchiamento è associato anche e soprattutto a una condizione di stress stress cellulare ovvero stress ossidativo ok avete presente quando lasciamo una mela a metà e l'andiamo a riprendere dopo due ore magari d'estate ecco questa mela nella sua parte diciamo esposta all'ossigeno si ossida e quindi invecchia precocemente matura più velocemente ed è la stessa cosa che accade poi nell'essere umano ora l'ho sicuramente circoscritta una situazione un po' particolare quella della mela ma quando andiamo a parlare di attività di esercizio fisico dobbiamo tenere presente una bellissima review che è uscita sul bmj journal a febbraio di quest'anno febbraio di 2000 del 2022 che cosa dice che cosa c'è scritto su questa review su questa review sono stati evidenziati i tempi adatti per rallentare l'invecchiamento attraverso l'esercizio fisico come ben sai e come ho già detto in altri video l'esercizio fisico è importante per l'ossigenazione mitocondriale perché fondamentalmente ciò che viene a mancare a livello proprio cellulare è l'ossigeno e quindi le condizioni di ipossia l'ipossia mitocondriale accelera l'invecchiamento ora quando parliamo di ossigeno durante l'esercizio fisico si crea uno stress fatto chiaramente appositamente per ricreare una risposta chiamata risposta ormetica da parte del nostro organismo che andrà poi a strutturarsi in un tempo successivo con o dando una risposta migliore alla condizione che ci viene poi preposta nel secondo allenamento e cosa vuol dire questo vuol dire che quando arriviamo al principio dell'invecchiamento che può essere che avviene dopo i 30 anni in misura minore ma si evidenzia soprattutto dopo i 50-60 anni dobbiamo tenere presente che il primo segnale di invecchiamento è la sarcopenia che cosa vuol dire vuol dire che la sarcopenia fenomeno evidente soprattutto con disfunzione tiroidea soprattutto con la condizione di ipertiroidismo vi è una riduzione del tessuto muscolare chiaramente poi associata alla sarcopenia c'è anche l'osteopenia quindi la perdita progressiva di tessuto osseo ma sono due fenomeni che come il passare dell'età quindi un fattore immodificabile vanno a essere evidenti si è visto però in questa review viene ben rappresentato bene bene evidenziato come dai 30 ai 60 minuti di rafforzamento muscolare mediante esercizio fisico a settimana vanno rallentare questa condizione quindi abbiamo un range di lavoro che varia dai 30 da un minimo di 30 minuti a settimana ad un massimo di 60 vedete come la quantità è fondamentale perché perché 10 minuti di attività faccio l'esempio a settimana sono parificabili a 70 80 minuti ovvero le due condizioni estreme fa sì che venga accelerato l'invecchiamento ora ci so so che se stai ascoltando probabilmente ti alleni di meno rispetto a questa quantità oppure di più infatti frequenti sono le donne che incontro in consulenza all'interno dei nostri percorsi di rinascita che si allenano magari donna di 40 50 anni che si allena per cinque ore alla settimana con i pesi ora non è la condizione adatta ma poi vedremo come misurare il livello di stress ossidativo livello di invecchiamento dato dall'esercizio fisico con 45 parametri fondamentali ora quando andiamo a parlare andiamo ad analizzare questo studio molto interessante e molto fresco viene fuori risulta anche che i benefici sulla salute vanno ad aumentare se si associa alla pratica settimanale di rafforzamento muscolare un'attività aerobica con un dosaggio che varia dai 75 minuti di attività aerobica intensa può essere per esempio HIIT attività ad alta intensità oppure dai 75 ai 150 minuti di attività moderata l'attività moderata potrebbe essere la camminata in salita ora le do queste sono le dosi ottimali di attività di rafforzamento quindi di muscolazione che ci permette di avere più tessuto metabolicamente attivo quindi di dimostrare un'età biologica inferiore rispetto a quella che andremo ad avere e di conseguenza la produzione più che la produzione l'effettivo utilizzo dell'ormone t3 che è l'ormone attivo prodotto dalla nostra tiroide avrà successo all'interno delle nostre cellule questa si è dimostrata dicevo appunto il dosaggio adatto per la riduzione della probabilità di insorgenza di malattie cardiovascolari di tumori e di tutte le malattie correlate le malattie non trasmissibili ma che sono correlate all'obesità al sovrappeso e alla sedentarietà che ricordo essere un male fortissimo l'essere umano è fatto per muoversi ora quando parliamo di dose sbagliata quando andiamo a ridurre si è visto da questo studio quando andiamo ad avere una dose troppo bassa o troppo elevata rispetto a questo si vanno a ridurre i benefici e in alcuni casi si vanno a vanificare soprattutto quando si superano per esempio i 100 150 minuti di attività muscolare si va ad accelerare quel meccanismo che poc'anzi vi ho detto ora ci sono però delle domande che puoi porti per vedere se la tua età biologica ti permette di sopportare quel determinato stimolo stressorio dato dall'allenamento che stai facendo con i pesi per vedere se effettivamente sta incidendo positivamente sulla tua salute sul aumentato benessere psicofisico oppure sta incidendo negativamente e stai lentamente in modo silente invecchiando precocemente invece che ottenere dei risultati positivi ora quali sono questi valori innanzitutto la prima domanda riguarda il sonno ovvero dormo male la notte il mio sonno è il mio sonno è agitato oppure un sonno dove non riesco ad addormentarmi subito e ci metto più di mezz'ora per addormentarmi il mio sonno è abbastanza profondo ecco il confronto tra la mia condizione attuale mentre sto facendo gli allenamenti attuali rispetto a una condizione dove non mi allenavo può essere confrontata con il sonno il sonno un elemento molto importante dai ricercatori hanno visto essere uno degli elementi più importanti nella valutazione dell'invecchiamento biologico un'altra domanda che ti puoi fare è quella riguardante l'utilizzo di sostanze stimolanti pre workout prima dell'allenamento ovvero l'utilizzo di eccitanti come per esempio la caffeina se hai una necessità una sorta di dipendenza dal caffè pre workout che potrebbe essere quello di cinque ore prima e poi quello di mezz'ora prima quindi se hai bisogno di sostanze eccitanti per svegliarti per fare l'esercizio forse il tuo corpo non ancora recuperato e forse non stai andando a inficiare negativamente sulla super compensazione non è data dall'esercizio ovvero faccio un allenamento la mia condizione peggiora ma ma quando arrivo al secondo allenamento la mia condizione superiore a quella di partenza rispetto a quello del primo allenamento quindi la super compensazione ti è proprio il principio dell'allenamento ma quando accade che mentre vado a fare l'allenamento successivo io non ho ancora recuperato oppure sono in una giornata no dove accade molto spesso dove ho bisogno di eccitanti allora questo è un altro elemento chiave e importante che va a farti riflettere se la quantità di allenamento che stai facendo è eccessiva non solo il terzo elemento che non è da poco ed è uno degli elementi più importanti che all'interno dei percorsi di rinascita andiamo a valutare quando prendiamo una persona da zero la portiamo a uno stato psicofisico eccezionale e i progressi nell'allenamento che puoi misurare con la fatica quindi una riduzione della fatica rispetto alla volta precedente alle volte precedenti significa che io sto effettivamente andando in una condizione dove mi sto adattando ma non solo sto alzando più carichi di tre mesi fa di due mesi fa mi devo chiedere anche questo perché perché se effettivamente io sono da mesi sempre stallato su quei pesi sempre stallato su quelle ripetizioni non riesco a salire probabilmente la tua condizione dell'allenamento sta inficiando negativamente sul tuo benessere psicofisico e il famoso stimolo ricercato chiamato stimolo ormetico non esiste più ovvero l'esercizio mi sta invecchiando precocemente ora a questo non possiamo non nominare il parametro del heart rate variability che voglio spiegarti in modo semplice più che spiegarti che è la distanza tra i due ultimi battiti è un valore che viene misurato al mattino che puoi misurare per esempio col cardiofrequenzimetro che prendi poi acquistare su amazon tranquillamente e va a misurarti e ti darà un valore ora quando l'earth rate variability rientra in una condizione verde di normalità in una condizione di basso stress è il parametro dello stress allora probabilmente stai facendo non sei in una condizione di fatica non sei in una condizione di over ok di burnout se invece questo hrv misurato per più mattine consecutive ti dà una condizione di stress che poi è l'effettivo valore che va a dare ti dà una condizione di stress marcato allora devi fermarti soprattutto metterti in mano a un professionista specializzato nel movimento super le disfunzioni tiroidee che andrà bene ad usarti il tuo programma di allenamento il più delle volte credetemi che io vado a ridurre la quantità di allenamento e ottengo gli effetti desiderati che cosa vuol dire la donna dorme meglio più riposata riesce a incrementare i carichi e si sente più tranquilla durante la giornata quindi quello stato di stress o ansia che è generato inconsciamente dall'allenamento viene a ridursi quindi ti lascio qua sotto il numero di whatsapp se desideri contattaci direttamente per iniziare il tuo percorso di rinascita